Siamo ritornati in una pista che tanto odiamo, ovvero Imola, perché abbiamo perso il campionato Porsche Cayman. Però stavolta siamo con la Ferrari FXXK per lo Showcase FXXK Provea. V12 da 0-100 in due secondi e mezzo, 1050 CV per 1495 kg di peso, velocità massima 3,49. Detto questo in gara. V12 da 0-100 in due secondi e mezzo, velocità massima 3,49. Ho rotto la sospensione, però riesco ad ottimare. Perché mi prende? Mica siamo all'autoscontro che mi deve colpire. Vabbè, a Imola non vincerò più, non vincerò mai. Buon lavoro comunque. Vincent Nelson Diamara è stato invitato a partecipare al banco di prova di Ferrari con una 288 GTO in Scozia. Vai con la prova. Mi hanno spinto, mi hanno spinto, cioè si divertono. Non c'è spazio. No, 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 no. Sì, si è messo davanti. Un po' sporchino quel po'. Si appassa ma dovevo portarlo in porta. No, Vincent Nelson Diamara vince. Grazie a tutti. 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 e adesso andiamo in gara. Grazie a tutti. Ma stavo perdendo il frenato. un po' sporchino. Un po' sporchino del cordolo non voluto. tempo è scaduto. otteniamo questo podio, vai. Calma, piatta. nissan mi ha chiamato al suo banco di prova allo sportland sugo. andiamo, vai. Andiamo, vai. e adesso andiamo. No so perché mi ha preso in pieno. non so perché mi ha preso in pieno. andiamo, vai. andiamo, vai. andiamo. andiamo, vai. andiamo, vai. andiamo. andiamo, vai. No, vai. No, vai. andiamo, vai. andiamo, vai. andiamo, vai. ultima gara del campionato britannico Gports. silveston internazionale si parte in ultima posizione tenete le dita incrociate per me c'è traffico c'è tanto traffico qui ne ho qualcuno al lato ho una domanda ma gli spotter non ce li ho? sottosterza un pochino non so come hai messo il campionato quinto posto a 19 punti io non so cosa succede forse avanzo forse non avanzo non mi ricordo non ce l'abbiamo fatta nel campionato britannico gt3 ci siamo iscritti al campionato americano sports car racing il primo round è a long beach l'ho firmato per forse motorsport detto questo ci vediamo al prossimo episodio perché scoprirete di più ciao ciao